Il loro sodalizio è nato nel giugno 2013, solo i G&G Project producono Music House e Studio, preparano le basi che poi possono essere anche adattate per i cantanti. Il nostro gruppo nasce nel giugno del 2013, il gruppo musicale di Music House, il nome è G&G Project. G&G Project nasce dai nomi miei e di Giovanni Torre. Ci occupiamo di musica, nel senso che andiamo a fare una produzione musicale negli nostri studi, facciamo quindi l'arrangiamento, creiamo delle basi con tutti gli strumenti necessari, con programmi specifici e successivamente vengono amalgamati con la voce di cantanti italiani e stranieri. Un loro pezzo, The Lights, è stato presentato alla casa discografica Smilax Publishing. Chiusi, il pezzo è piaciuto, ma essendo strumentale, doveva essere accoppiato ad un cantato in inglese. Noi ci siamo messi subito al lavoro, appena siamo ritornati in Sicilia, e abbiamo contattato un paio di agenzie di cantautori. Abbiamo trovato un buon prodotto di un cantante giamaicano, Richie Loop, e ci siamo messi subito in contatto con lui per iniziare a lavorare e finire il progetto. Il brano è in tutte le radio network, sia italiane che estere. Il brano è andato anche in onda su Sky Sport, durante la partita Napoli-Juventus. Già per noi è un successo essere arrivati in classifica Smilax, in compilation come il Meet & Meetup Eats, in compilation come Music Party Vol. 5, dove ci sono anche altri artisti. E quindi, già per noi è una grande cosa, uno stimolo in più per poterci ora migliorare. Grazie a tutti.